Quest'oggi presso l'asta la stampa dello stadio Pavone Mariani il Pineto ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore Roberto Beni. Mr. Beni aveva già vestito da giocatore la maglia del Pineto nella seconda metà degli anni 80 mentre in panchina ha avuto esperienze da allenatore con Grotta Mare, Civitanovese, Sant'Egidiese, Vermana, Rieti e Primavera della Sernitana e Davice con San Bredettese, Cagliari, Pescara, Atalanta, Udinese, Bari e la Sernitana stessa per svolgere infine il ruolo di collaboratore tecnico col Genoa e all'inizio di questa stagione con la Cremonese. Alla conferenza stampa accanto a Mr. Beni rappresenta il DS Marcello Di Giuseppe che ha iniziato ringraziando l'esonerato Mr. Amaolo per quanto fatto di buono in questi anni al Pineto. Il DS ha poi proseguito dicendo che il contratto col Mr. sarà fino al 30 giugno che la regular season durerà fino a fine aprile ma che si spera il Mr. prosegue ancora il suo lavoro dopo aver raggiunto i playoff e culando quindi il sogno Serie B e in questi due mesi poi si potrebbe anche parlare e pianificare un proseguo del rapporto nella prossima stagione. E' poi intervenuto Mr. Roberto Beni che ha dichiarato che la sua prima intenzione è di cambiare un atteggiamento sbagliato intervenuto nelle ultime giornate nella squadra verificando le possibilità di modificare l'assetto tattico e per questo si andrà in ritiro per due giorni prima della gara con la Lucchese. Per il Mr. il primo obiettivo stagionale è la salvezza e poi provare a fare i playoff se ce ne sarà la possibilità. Grazie.